Sono trent'anni che andiamo avanti con questa tradizione ed è stata tutti insieme, è stata una cosa bellissima, di fare qualcosa per il paese, di divertirci. Salve, noi oggi ci siamo riunite per rispettare la tradizione che va avanti da trent'anni e quindi di preparare gli gnocchi con tantissimi signore e cucinarli e mangiarli insieme. Poi stasera, in collaborazione con un noto ristorante della zona, verranno cucinati e serviti in piazza. Quindi vi aspettiamo stasera in piazza Bottitino. È un piacere perché comunque ci sono persone di varie fasce d'età, abbiamo la signora veterana che ha sempre collaborato e oggi possiamo anche vedere ragazzine e questo è veramente un onore perché vuol dire che comunque vogliono portare avanti quelle cose che sono state trasmesse sia dai loro genitori e soprattutto dai loro. Quindi vi aspetto tutti stasera in piazza Don Giovanni Vigliotti. Oltre alla degustazione ci saranno anche vari spettacoli ed intrattenimento. Un abbraccio. Vi aspettiamo stasera alla trentunesima edizione Saga degli Gnocchi in piazza Giovanni Vigliotti al Botteghino San Felice a Cancello. Stasera inizieremo con la Start Music Academy che è una scuola di musica e poi a seguire ci sarà Simone Schettino e i favolosi Gnocchi sia stasera domani e domenica sera. Domani ci saranno i 70 Special Band e Luis Navarro mentre domenica sera ci sarà Tania Superstar e un'altra band Le Frequenze Diverse. Lunedì vi aspetterà Emiliana Cantone e Luca Sepe e ci sarà un bellissimo spettacolo pirotecnico. Mi raccomando vi aspettiamo. Noi non aspettavamo altro che questo momento oggi. Dopo tre anni di pandemia che siamo stati fermi iniziamo con la trentunesima edizione. Spero che va tutto bene e come già detto il nostro Vicepresidente il programma è favoloso. Vi aspettiamo in tanti e noi combatteremo sempre per fare questa edizione sempre più bella. Le Frequenze Diverse